l'emozione per la visita di un luogo indimenticabile nel 1958 la palla sacra sulla cupola di san pietro a roma lo sapete che la palla in bronzo laminato in oro a 120 metri di altezza sopra il cupolone della basilica di san pietro sino alla fine degli anni 50 era visitabile io ho avuto la gioia durante la mia permanenza a roma in quegli anni di entrarci in sicurezza è stata una emozione unica da lontano sembra piccola ma possono entrare circa 12 persone si escede salendo per una scala in ferro attraverso una botte di circa un metro è un luogo veramente pazzesco la sfera è segnata da quattro fessure che permettono di dare uno sguardo ad uno spettacolare panorama la sfera fu ultimata nel 1593 dall architetto giacomo della porta e del suo figlio paolo le visite non sono più concesse agli statori dalla fine degli anni 50 per timori di instabilità io sono stato infortunato